Passo la parola al competente Pietro Piazza. Quindi si è stabilito lo stato di risonanza tra la CDC Digital, il campo K, la foto e la colonia di Escherichia Coli, quindi sono state rilevate e proiettate le FK nella scala K a Gallegari, poi sono riportate le date in cui si è operato con la CDC la data di lettura delle piastre di semina dopo 24 ore di incubazione. Qui andrò veloce per non essere molto usante. Le FK rilevate e poi proiettate e irradiate il 21 novembre 2016 sono le seguenti. FKN della scala K a Gallegari 1,426, la quale frequenza è 5,697 x 10 alla 14 Hz e una lunghezza d'onda 5262 Heimstone. Poi nel campo 4,4124 con una frequenza 4,573 x 10 alla 14 Hz, una lunghezza d'onda 5262 Heimstone, e una FKN 3,038 con il valore in frequenza 5,105 x 10 alla 14 Hz. queste frequenze appartengono ai livelli energetici del campo 1, campo 4 e campo 3. Come vediamo nella figura, campo 1, campo 4 e campo 3. Quindi l'effetto di queste FK proiettate non ha prodotto nessuna variazione. Quindi alcune FK poi proiettate in data 27 novembre 2016 sono le seguenti. FK della scala K a Gallegari 12,995 e FK 3,934 della scala K a Gallegari e non hanno prodotto nessun, questo, fanno parte dei campi K12 e K3. Queste sono solo una parte delle FK proiettate, sono state proiettate il 27 novembre una FK 0,223 e 2,380. E dopo la proiezione di queste FK per la prima volta è diminuito in modo significativo il numero delle colonie. Quindi per la prima volta abbiamo ottenuto il risultato. La proiezione anche su questa piastra di semina con una FK 4,135, FK 3,208 e FK 0,223. Queste sono una parte delle FK proiettate il giorno 30 novembre e la lettura della piastra del giorno 1 dicembre mostra che il numero delle colonie è diminuito maggiormente rispetto alla piastra di cottura degli esperimenti precedenti. Abbiamo fatto un secondo esperimento, esperimento B e l'escrizione di questo esperimento proviene da un soggetto diverso dal precedente. Alcune FK proiettate il 14-12-2016 su una soluzione B sono le seguenti. Queste sono state proiettate sulla foto della provetta e con FK della scala K Calegari 1,988, 3,308 e 13,789. Altre FK proiettate il 17-12-2016 queste proiettate su una piastra di semina il 17 dicembre con una FK della scala K Calegari 1,918 e 4,646. Quindi il giorno 18 dicembre il numero delle colonie è diminuito in maniera molto evidente e se ne deduce che aumentando i tempi di iperequazione si ottengono migliori risultati. La ricerca dei batteri comunemente viene effettuata con un esame detto urinocultura. Per effettuare l'urinocultura il paziente deve raccogliere in un deposito contenitore una certa quantità di urina prelevata a mito intermedio. Per effettuare la semina si utilizzano delle anze di una quantità pari a 10 microlitri immerse direttamente nel contenitore in modo verticale. Prendiamo ora una piastra e la seminiamo per il raggio della piastra in figura 1 e poi per scaricare la piastra per caricare la lanza effettuiamo delle scrisciate per te piccolari per tutta la piastra. Le piastre seminate in questo modo vengono poi incubate con il coperchio verso il basso in un termostato a una temperatura che può variare da 35 a più o meno 2 gradi centigradi. Le culture poi verranno lette 24 ore dopo. Durante la prima fase dell'esperimento sono state attivate e proiettate come abbiamo detto delle frequenze della scala K-Callegari direttamente sulla foto della provetta contenente colonie pure di Escherichia coli nel luogo L, intendendo con colonie pure, sottolineando, che sono delle colonie che venivano da un'unica cellula madre. La provetta contenente la soluzione della cellula madre è costituita da una soluzione di saline di 3 litri di sodio cloridro allo 0,45% più 145 microlitri della soluzione madre con un McFarlad tra 0,5 e 0,63. Il McFarlad è uno standard che in microbiologia identifica la torbidità della soluzione necessaria per l'esecuzione delle varie indagini microbiologiche. I primi risultati delle piastre del luogo L sotto l'azione della CRC sulla provetta non hanno portato delle variazioni molto significative sia nel trattamento del giorno 21 e della semina del giorno 22 sia nel trattamento successivo del 24 e con la semina del 25 appunto le colonie sono ancora presenti finché modificando alcune effecate come abbiamo visto precedentemente giorno 29 la piastra ha mostrato una diminuzione significativa del numero delle colonie. Giorno 30 avanti la CRG ha agito direttamente sulla foto della piastra seminata sempre con la soluzione madre dopo la lettura del giorno 1 dicembre abbiamo potuto confermare che il numero delle colonie è diminuito in modo significativo in seguito il 7 a conferma della diminuzione del numero delle colonie abbiamo seminato altre piastre sempre con la stessa soluzione madre a giustificare e confermare la diminuzione avvenuta. A dimostrazione invece dell'azione della CRC paragoniamo ora una piastra contenente colonie pari a 1 milioni da formanti colonie per mili litro con una piastra cromogena diciamo del giorno di 7, quello della conferma che abbiamo detto prima c'è differenza e questa differenza mostra proprio la diminuzione del numero delle colonie e iniziamo a dire che la CRC ha agito inibendo la crescita delle colonie stesse. Abbiamo proseguito ancora i nostri esperimenti utilizzando una nuova provetta proveniente da un soggetto diverso seguendo le procedure effettuate nella soluzione precedente dell'esperimento A. Abbiamo operato sempre a distanza ma a differenza dell'esperimento precedente abbiamo utilizzato delle fasci di home elettromagnetiche FK per più ore, per circa 24 ore per la precisione da un minimo di 23 ore e 29 minuti a un massimo di 25 ore e 18 minuti. Abbiamo operato sulla foto della provetta contenente Scherichia Coli sulla foto di una rappresentazione di Scherichia Coli e sulla foto della piastra seminata. Il 14 dicembre abbiamo fatto le perequazioni il 15 è avvenuta la semina della soluzione pericolata e il 16 abbiamo letto questa piastra confermando che nella piastra le colonie sono diminuite ma forse ancora non per tutti apprezzabile questa diminuzione. la soluzione poi è sempre la stessa che è stata sottoposta alla CLC Digital questa volta la CLC Digital è stata attivata su una piastra su una piastra direttamente per 25 ore e 18 minuti sempre a distanza e dopo 24 ore dell'incubazione le colonie sì che sono diminuite in modo anche molto significativo quindi dal confronto di questo esperimento possiamo vedere che il risultato della piastra con trattamento della sola soluzione e il risultato della piastra sotto CRC il trattamento sulla piastra ha risultati molto più soddisfacenti quindi si può confermare le azioni inibende delle CRC attraverso le FK irradiate.